Ciao, sono Stefano Tonut e purtroppo oggi non potrò essere lì con voi a causa dei miei impegni con la Supercoppa, ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni per parlare di questo progetto che mi sta molto a cuore. Ad ogni modo, ho accettato con entusiasmo di essere il testimonia all'ufficiale di Unicef Italia per il progetto dei diritti a canestro. Amo questo sport ed è molto importante che tutti i ragazzi e le ragazze che vengono da noi in Italia abbiano la possibilità di giocare a basket e che lo possano fare nel pieno rispetto dei loro diritti. Sono sicuro che la FIP, il CBF Frascati e l'Unicef, grazie anche alla supervisione del CONI, creeranno un modello che sarà ad esempio per il futuro e per il futuro di questi ragazzi. Io ci sono e farò la mia parte.